A1 Code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano e tra l'allacciamento con il raccordo Lucca-Viareggio e l'allacciamento con la 15 entrambe in direzione Genova Code anche alla barriera di Rosignano in direzione Sud Spostandoci sulla statale 1 Aurelia Code a tratti tra San Vincenzo e Rosignano in direzione Livorno e tra Rosignano e Cecina in direzione Grosseto Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!